ciao a tutti amici scacchissi ed eccoci ritornati dopo un breve periodo di magra in particolare dal 21 agosto ma che cosa è successo il 21 agosto che qualcuno se lo sta ancora domandando essenzialmente il 21 agosto sono stati pubblicati quattro video sul canale youtube i primi tre diciamo erano dei video di riscaldamento che sono stati pubblicati in mattina presto tarda mattinata e pomeriggio dove puoi trovarli ancora ci sono delle interviste che ho fatto a dei maestri di scacchi dove condividevano la loro preziosa esperienza e il quarto video l'ultimo che è stato pubblicato di sera invitavo a chi voleva chiaramente ad accedere gratuitamente a delle lezioni riservate per farlo però bisognava compilare un form forse mi sono spiegato male nonostante insomma l'avessi scritto sia in descrizione del video che come primo commento in evidenza che i dati non andavano lasciati così nei commenti su youtube ma andavano appunto inseriti nel form che cosa è successo che tantissimi di voi hanno lasciato il loro nome e cognome e l'email come commento su youtube e questo è non si lasciano i dati sensibili online soprattutto in un posto dove chiunque può vederli chiunque può prendere la vostra email chiunque può rivendere i dati ragazzi c'è un business dietro i dati che non potete neanche immaginare quindi erano veramente elementi sensibili così visto che sono arrivate centinaia di commenti con questi dati nome e cognome e mail mi è sembrato giusto eliminare il video così eliminando il video si eliminavano anche quei dati perciò per chi volesse accedere a quelle quattro lezioni riservate e non è riuscito lascio qui sotto questo video nella descrizione come primo commento in evidenza il link per accedere alle elezioni dove troverete un form dove lasciare i vostri dati che non significa scriverli su youtube ma c'è proprio un form c'è un campo da compilare no ok detto ciò ora riprendiamo tranquillamente la pubblicazione dei video qui sul canale youtube e volevo avvisarvi che ho aperto anche un canale su twitch dove faccio delle dirette dove ogni tanto gioco in diretta e commento le partite per oggi ci andiamo a vedere una partita interessantissima giocata fra tal con il nero e nezmedino con il bianco credo che sia una partita molto interessante perché spesso vediamo partite di grandi maestri karsen kasparov tal che vincono con sacrifici incredibili in questo caso tal perde con sacrifici incredibili quindi sono esseri umani anche loro ma vediamo poi andata questa partita e4 c5 difesa siciliana cavallo f3 d6 d4 tutto nella norma ragazzi tutto nella norma cavallo f6 facendo un po' di pressione su questo pedone cavallo c3 difendendo il pedone e6 questo tipo di variante della siciliana prende il nome di scheveningen detta anche variante del piccolo centro poiché nessuno dei pedoni del nero ha superato la sesta traversa quindi non è una di quelle varianti cattive con un pedone per esempio in e5 alfiere 2 continuando lo sviluppo a6 importantissima questa mossa in questo tipo di sistema poiché controlla la casa in ingresso b5 che è molto importante arrocco la donna in c7 ora sta bene poiché non teme nessun tipo di attacco da parte del cavallo f4 f4 ok se non me la faceva giocare molto coraggiosa f4 scopre questa diagonale che il nero ovviamente potrà in futuro controllare soprattutto giocare sull'inchiodatura di questo cavallo poiché dietro c'è il re quindi prima o poi meglio prima bisogna spostare il re in h1 cavallo in bd7 tal cerca di continuare il proprio sviluppo e ora ragazzi in pieno stile romantico mega attacchi incredibili g4 wow il bianco inizia visto che tal non ha ancora completato il proprio sviluppo inizia a portare un attacco che potrà essere veramente 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 interessante adesso ti dico una cosa e ti chiedo di memorizzarla se vuoi scrivere da qualche parte l'attacchi vicino al computer dove giochi a scacchi quando il tuo avversario fa un attacco sulle ali quindi con i pedoni in g pedoni in h pedoni in b pedoni a tu devi contrastare questo attacco con degli attacchi al centro questa è proprio una di quelle regole incredibili tal sta capendo che nesmedino sta portando un attacco verso l'ala quindi decide di contro giocare al centro in che modo non direttamente ma indirettamente cioè gioca b5 con l'idea di piazzare l'alfiere in fianchetto e iniziare un contro gioco sul centro a3 forse per la paura di questa spinta che potrà essere fastidiosa alfiere b7 finalmente iniziano ad esserci un po' di minacce concrete come ci si difende da questa minaccia la mossa più forte è senza dubbio alfiere f3 cavallo c5 aumentando gli attacchi verso questo punto ora ci si può difendere o con torre 1 oppure con donne 2 che la mossa viene giocata e5 mossa coraggiosa forse anche l'unica per cercare di avere un po' di respiro adesso c'è un attacco contro un cavallo quindi bisogna prendere provvedimenti ora ci sono due possibilità ti faccio vedere quella che non è stata giocata in partita che era cavallo d5 minacciando la donna e dopo per esempio una cattura di cavallo cattura il nero non può catturare questo cavallo poiché il pedone è inchiodato perché dietro ovviamente c'è il proprio re ed era una continuazione carina e interessante tuttavia viene giocata dal bianco la mossa cavallo in f5 questa mossa è più forte di quel che sembra il cavallo intanto attacca d6 e in futuro ci possono essere iniziative ma soprattutto il cavallo controlla g7 qui tal vorrebbe assolutamente sviluppare l'alfiere in e7 e roccare tuttavia vedi cosa succede che togliendo l'alfiere il punto g7 cade e una delle cose più brutte che possa fare un giocatore di scacchi al suo avversario è non farlo giocare questa è una di quelle mosse che servono a non far giocare g6 con l'idea di scacciare questo cavallo e adesso prima di togliere il cavallo viene giocata questa mossa intermedia f per e5 con controattacco sul cavallo avversario tal non accetta il sacrificio gioca semplicemente d per e5 e adesso dove metteresti questo cavallo? ci sono essenzialmente 4 posti dove andare un posto è questo, un posto è quest'altro, un posto è quest'altro, un posto è quest'altro negli altri posti ovviamente si perde subito il cavallo dove ti piacerebbe piazzare il cavallo? probabilmente sarai pensando subito a e3 dove dai 3 si può andare in d5 e prendere un bellissimo avamposto e sicuramente questa mossa è corretta ma Ned Medinov ha in mente qualcosa di meglio cavallo in h6 qual è lo scopo di cavallo in h6? quello di impedire l'arrocco perché finché il cavallo controlla questa casa l'arrocco non si può fare e non solo c'è il controllo a raggi x anche sul punto in f7 molto importante tal risponde con cavallo in e6 con l'idea di andare in d4 e creare un bel attacco doppio perciò il bianco ritira il proprio alfiere in g2 alfiere g7 ovviamente l'arrocco non è ancora possibile però si sta cercando di mettere in comunicazione le due torri e adesso partono i sacrifici sacrificio di torre su f6 chiamasi sacrificio di qualità che tal accetta volentieri ora è molto difficile capire come continuare questo tipo di attacco anche perché comunque il nero non è che abbia una posizione apertissima il bianco non ha completato il suo sviluppo quindi è veramente difficile capire come continuare questo attacco ma andiamo a vedere insieme cavallo d5 ovviamente attacco doppio a questo punto il nero decide di giocare donna d8 cosa sarebbe accaduto se tal giocava alfiere per d5 e per d5 donna c5 scacco e adesso semplicemente si giocava in questo modo ma le mosse che sono state giocate ripeto sono state donna invece d8 ora bisogna continuare l'attacco anche perché si è data la qualità quindi donna f2 con attacco doppio su questo alfiere e anche il solito attacco su f7 vediamo come continua la partita cavallo in f4 per cercare di chiudere la colonna alla donna in effetti ci si riesce perfettamente alfiere per pedone per ok adesso come si continua ancora questo attacco il re nero è al centro bisogna assolutamente aprire le linee dunque e5 viene giocata alfiere per e5 e ora torre per e1 bene f6 mossa della disperazione ovviamente c'è la tattica qui qui si può catturare il pedone su f6 ma siamo sicuri che si può catturare? ok catturo il pedone in f6 faccio scacco l'alfiere non può catturare il cavallo poiché è inchiodato però c'è la donna che può catturare questo cavallo dunque è corretta questa mossa? certo che è corretta perché adesso parliamo ancora di tattica qual è la mossa corretta? hai 10 secondi di tempo per pensarci ebbene sì la mossa corretta è donna in d4 la donna d4 aumenta la pressione su questo punto e non si può fare assolutamente nulla re in f8 il re si toglie dall'inchiodatura e adesso torre per e5 donna in d8 e ora qui altri fuochi d'artificio sei pronto? torre f5 scacco liberando l'attacco su questa torre g per f5 donna h8 scacco re in e7 donna g7 e qui tal abbandonò perché abbandonò? perché per esempio dopo re in e6 pedone per f5 scacco re in d6 e adesso cavallo in f7 con attacco doppio e guadagno netto di materiale bene questa partita è stata molto molto bella ricca di colpi di scena ma soprattutto abbiamo visto come anche i grandi magari i nostri giocatori preferiti sono anche loro dei giocatori degli esseri umani che talvolta sbagliano anche loro è bello cercare di capire che cosa è andato storto all'interno di queste partite bene spero che anche questo video di oggi e dunque ti sia piaciuto allora noi riprendiamo la normale pubblicazione di tutti i giorni tutte le mattine alle 8 trovi già il nuovo video e se ti va seguimi su twitch perché come ti dicevo ho iniziato a fare delle dirette sto ancora smanettando perché non sono ancora esperto ma pian pianino inizierò a capirci qualcosa grazie della visione ci vediamo domani ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao